Strade chiuse, tavoli di bar e ristoranti apparecchiati anche all'aperto nel centro storico Aretino. Torna così dal 17 maggio al 14 settembre, nel fine settimana, la grande isola pedonale estiva. Come negli anni passati, a partire dal 2022, il Comune infatti ha concesso questa possibilità agli esercenti, in particolare a quelli della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Dunque, dalle 19 alle 24 di ogni venerdì e sabato, scatta la zona pedonale allargata che a livello di traffico veicolare coinvolgerà soprattutto Via Roma. Da Piazza Guido Monaco, dunque non sarà più possibile svoltarvi. La chiusura di Via Roma interesserà anche i mezzi del trasporto pubblico e locale che subiranno variazioni nei percorsi. La pedonalizzazione interesserà anche le strade comprese in ZTL A e B con l'individuazione comunque di percorsi consentiti ai residenti. Anche quest'anno, poi, Via Vittorio Veneto, nella parte più vicina al centro di Arezzo, avrà la sua area pedonale, come richiesto lo scorso febbraio da Confcommercio che ha raccolto le istanze degli operatori economici dell'area. La chiusura al traffico seguirà in questo caso un calendario preciso. I giorni scelti sono il 14 e il 28 giugno e il 5 e il 12 luglio ed interesserà il tratto di Via Vittorio Veneto, compreso tra Campodimarte e Piazza Rismondo.